benvenuti a questa lezione di programmazione ad oggetti in cui parleremo dei test che vengono fatti in java con junit junit è un framework che permette di andare a scrivere i test ed è lo standard nella scrittura dei test per il linguaggio java quindi junit è un framework di test un framework è sostanzialmente una collezione di classi che sono pensate per funzionare assieme è stato scritto da due consulenti molto famosi kenberg e derrick gamma ed è un premio che permette di andare a scrivere quelli che sono dei test di unità unit testing ha il grosso vantaggio di essere integrato in eclipse come in buona parte dei gli ambienti di sviluppo essendo ormai molto diffuso abbiamo detto che junit è un meccanismo che un fremo che permette di andare a scrivere dei test di unità i test unità sono particolarmente importanti perché permettono di andare a testare delle unità quindi normalmente classi o addirittura metodi se vogliamo essere più dettagliati in termini di funzionalità che ci attendiamo che queste classi o metodi forniscano perché è molto importante scrivere i test di unità perché molto spesso il codice cambia evolve vengono corretti dei difetti vengono aggiunte delle funzionalità e avere a disposizione dei test di unità ci permette di andare una volta modificato il codice a verificare che non ci siano state delle modifiche involontarie ovvero il codice non si è regredito e funzionalità che prima funzionavano ora non funzionano più per cui il test di unità permette anche di svolgere quelli che vengono chiamati i test non regressione del codice tramite il framework unit un programmatore può andare a sostanzialmente definire ed eseguire dei test in pratica i test che vengono scritti sono frammenti di codice che possono andare a formalizzare meglio in maniera precisa perché essendo codice devono funzionare quindi sono estremamente precisi quelli che sono i requisiti del nostro software delle nostre unità quindi il test il framework JUnit ci permette di andare a scrivere i test e andare a fare operazioni di debug del codice abbiamo detto che è integrato e permette di andare a mettere all'interno di una stessa repository di codice sia il test che viene chiamato di produzione sia il test di codice un minimo di storia relativamente a JUnit è stato sviluppato o meno l'idea è nata nel 97 per la prima volta da questi due consulenti Ken Beck e Derick Gamma tra l'altro Gamma è uno dei quattro della Gang of Four dei pattern di cui abbiamo parlato in lezioni precedenti Ken Beck è sostanzialmente l'inventore di quello che è la programmazione estrema o extreme programming nel 2000 è stato lanciato un portale che raccoglie JUnit e il codice delle sue versioni che si chiama JUnit.org e nelle successive evoluzioni si è arrivati nel settembre 2002 a la versione 3.8.1 che è una versione utilizzata per molti anni infatti fino al 2006 non è stata rilasciata la versione 4 e la versione 4 si è evoluta abbastanza lentamente e la versione 4.12 è stata rilasciata poi nel 2012 buona parte di test che si trovano ancora in giro sono scritti per JUnit 3 ce n'è una certa parte scritta in JUnit 4 e quelli molto più recenti probabilmente sono scritti in JUnit 5 che è stato rilasciato per la prima volta nel settembre del 2017 queste tre varianti di JUnit 3, 4 e 5 hanno alcune differenze sintattiche ma il funzionamento, i principi base sono sostanzialmente gli stessi sono gli stessi che erano stati definiti nel 1997 da Beck e Gamma che cosa permette di fare JUnit? JUnit permette di andare a scrivere dei test i test sono scritti in termini di metodi ci sono sostanzialmente tre fasi nell'esecuzione di un test la chiamata di quelle che vengono chiamati i pre-test fixer ovvero una serie di codici fissi che permettono di andare a inizializzare l'ambiente le unità che vogliamo andare a testare c'è la chiamata del metodo di test che effettivamente fa le operazioni di test verifica che il risultato prodotto da un metodo sia quello che ci aspettiamo e poi eventualmente ci sono quelle che vengono chiamate post-test fixture ovvero dei frammenti di codice fissi che vengono eseguiti dopo ogni test per andare a rilasciare le risorse i metodi di test sono l'elemento fondamentale che noi andiamo a scrivere in JUnit i metodi di test non devono restituire alcun valore quindi sono dei metodi void quello che devono fare è andare a eseguire una serie di operazioni sulle classi o sui metodi che vogliamo andare a testare e verificare il risultato il risultato viene verificato tramite una serie di metodi che iniziano con assert più qualcosa questi metodi permettono al framework JUnit di andare a rilevare anomalie e tracciarle e riportare poi tutte le differenze tra i valori attesi, comportamenti attesi e quelli che effettivamente sono verificati sul software che stiamo testando i principali metodi assert sono quelli che vediamo in questo slide quindi abbiamo un assert true che mi permette di andare a verificare una condizione booleana o assert false che verifica il contrario un assert equals che permette di andare a verificare che un valore atteso sia effettivamente quello che il nostro programma restituisce un assert same che verifica che due oggetti siano sostanzialmente lo stesso quindi fa l'uguale tra i riferimenti not same che verifica al contrario un assert null e un assert not null che verificano che un riferimento sia o meno nullo e poi c'è un metodo che si chiama fail che possiamo utilizzare se vogliamo avere dei costrutti di controllo complicati per cui se una serie di verifiche vanno in una certa direzione possiamo chiamare il metodo fail per andare a segnalare che sostanzialmente il test è fallito vediamo un po' meglio come funzionano questi metodi assert iniziamo dal metodo assert true assert true accetta una condizione booleana e verifica che questa sia vera se la condizione è verificata il metodo restituisce il controllo al chiamante quindi il metodo di test e l'esecuzione prosegue se invece la condizione è falsa l'esecuzione viene interrotta immediatamente quindi eventuali istruzioni che seguono l'assert true all'interno del metodo di test non vengono eseguite e JUnit registra il fallimento di quel test o del metodo di test oltre ad assert true abbiamo altri assert che abbiamo visto prima sono un pochettino più complessi abbiamo in particolare il metodo assert equals che permette di andare ad avere due parametri uno è il valore atteso, quello che io mi aspetto e l'altro è il valore attuale che il mio programma restituisce esiste una variante di questo metodo per i valori floating point in cui abbiamo un terzo parametro che è sostanzialmente l'errore massimo accettato ricordiamoci che quando parliamo di numeri floating point abbiamo una rappresentazione che non è precisa ma è approssimata e quindi devo avere un modo di andare a specificare qual è la tolleranza massima nel confronto che io voglio fare in generale tutti i metodi assert hanno una doppia variante in cui viene aggiunto un messaggio come stringa che permette di andare a stampare una spiegazione nel caso in cui il test fallisca ovvero nel caso in cui la condizione verificata dal metodo assert non sia verificata in JUnit 3 e 4 normalmente il messaggio viene messo come primo parametro invece in JUnit 5 il messaggio è un eventuale ulteriore ultimo parametro tra l'altro in JUnit 5 è anche possibile andare a mettere un oggetto che sia un supplier di una stringa abbiamo accennato prima a due fasi che avvengono prima e dopo l'esecuzione del test vero e proprio che sono le invocazioni del pre e post test fixture le fixture sono sostanzialmente delle porzioni di codice che sono uguali per tutti i test e che vengono solitamente raccolte in un metodo apposito che viene chiamato tutte le volte prima di eseguire oppure dopo aver eseguito un metodo di test lo scopo delle fixture è sostanzialmente quello di andare a ridurre le duplicazioni permettere di avere dei test case che sono più corti, più facili da leggere, più compatti e garantire che l'inizializzazione venga fatta in maniera automatica prima dell'esecuzione di ogni metodo di test a questo punto vediamo come possiamo effettivamente eseguire i nostri test partendo da un esempio molto semplice partiamo da una classe stack come quella che vediamo qua che ha un array di interi in cui sono memorizzati gli elementi dello stack un attributo privato next che mi dice qual è il prossimo elemento in cui andare a mettere il nuovo valore che viene passato allo stack un costruttore senza parametri, uno con parametri e tre metodi, isempti che mi dice se lo stack è vuoto push che mi permette di andare a inserire un elemento e pop che invece permette di andare a recuperare l'ultimo elemento inserito abbiamo accennato al fatto che ci sono tre diverse sintassi che corrispondono alle tre principali versioni di JUnit cioè JUnit 3, JUnit 4 e JUnit 5 per quanto riguarda questo corso noi faremo riferimento alla sintassi di JUnit 4 nel materiale che vi pubblico ci sono anche tutti i dettagli relativi alla sintassi di JUnit 3 e di JUnit 5 JUnit 4 come anche la versione successiva della 5 fa uso delle annotazioni per andare a segnalare quali sono i metodi di test e come devono essere utilizzati le annotazioni hanno il vantaggio di permettere una lettura più semplice e di complicare meno la scrittura delle classi JUnit 4 è stato costruito in modo da essere compatibile all'indietro con JUnit 3 per cui se voi avete dei test scritti in JUnit 3 li potete tranquillamente mescolare con quelli scritti in JUnit 4 ci sono due meccanismi principali per andare a scrivere le asserzioni i soliti assert qualcosa esattamente come in JUnit 3 e poi c'è un metodo nuovo che si chiama AssertDat come scriviamo il test per la classe stack che abbiamo visto un attimo fa? Questa è una classe di test la classe di test contiene sostanzialmente un metodo di test test-tech che è denotato come metodo di test da questa annotazione che lo precede quindi chiocciola test con la T maiuscola indica che il metodo immediatamente successivo è un metodo di test e quindi dovrà essere eseguito dal framework JUnit i metodi di test possono essere messi all'interno di una classe qualunque quindi non ci sono requisiti particolari sul nome o sul tipo di classe all'interno del metodo di test compaiono uno o più invocazioni di metodi Assert andiamo a vedere nel dettaglio come funziona questo metodo di test questo metodo di test crea un nuovo oggetto stack e va a verificare AssertTrue che lo stack sia vuoto quindi appena creato verifichiamo che lo stack sia vuoto se non lo è viene mandato a questo messaggio esplicativo lo stack dovrebbe essere vuoto dopodiché facciamo un'operazione di push di un valore a questo punto andiamo a verificare che dopo il push lo stack non sia più vuoto perché abbiamo messo un elemento e quindi AssertFalseStack isEmpty se questa condizione non è verificata viene mandato il messaggio lo stack non dovrebbe essere vuoto poi viene fatto un altro push del valore meno 4 dopodiché vado a verificare che l'operazione di pop mi restituisca meno 4 e la successiva operazione di pop mi restituisca 10 quindi sostanzialmente cosa fa un metodo di test? va a invocare dei metodi che sono definiti in una classe che vogliamo testare e va a verificare che i valori restituiti da questi metodi siano quelli che ci si aspetta lo fa attraverso questi metodi Assert se uno di questi metodi Assert verifica che la condizione non è rispettata non è verificata semplicemente cosa fa? interrompe l'esecuzione del metodo di test e restituisce il controllo al framework JUnit il quale sostanzialmente registrerà il fallimento del test e passerà al metodo di test successivo come funziona JUnit? sostanzialmente JUnit o meno il componente runner di JUnit quello che esegue i test che cosa fa? va ad eseguire tutti i metodi di test ovvero quelli che siano denotati dall'annotazione test pubblici abbiano come tipo di ritorno void e non abbiano alcun argomento il runner di JUnit sostanzialmente ignora qualunque altro elemento che sta nella classe per cui io posso andare all'interno di una classe a definire dei metodi di helper di supporto che possono essere invocati dai metodi di test per svolgere alcune operazioni, per fare dei controlli più complessi, per fare quello che vogliamo questi metodi di supporto sostanzialmente vengono definiti non pubblici quindi spesso vengono messi privati e sostanzialmente sono privi della notazione chiocciola test che invece va a indicare che un metodo è un metodo di test e quindi deve essere invocato dal JUnit runner prima di eseguire ogni metodo di test vengono eseguite quelle che si chiamano le pre-test fixtures sono dei metodi che hanno la notazione chiocciola before e vengono chiamati dal JUnit runner prima di ogni metodo di test quindi il metodo di pre-test fixture, quello denotato con before viene chiamato, poi viene chiamato un metodo di test poi prima di eseguire il prossimo metodo di test viene chiamato di nuovo il pre-test fixture qual è lo scopo di questi metodi? sostanzialmente quello di andare a inizializzare gli oggetti su cui poi andranno a operare i metodi l'idea è di andare a concentrare dentro questi metodi di pre-test fixture tutti gli elementi di inizializzazione che altrimenti sarebbero ripetuti più volte in vari metodi di test quindi è un metodo che consente di ridurre la duplicazione di codice che avrei nei vari metodi di test in corrispondenza alle pre-test fixture io posso avere anche quelle che si chiamano delle post-test fixture ovvero dei frammenti di codice che vengono eseguiti dopo ogni metodo di test l'obiettivo qual è? è quello di andare a rilasciare delle risorse che potrebbero essere state utilizzate all'interno di un test nella maggior parte dei casi non è necessario andare a mettere un post-test fixture perché in realtà prima dell'esecuzione del prossimo metodo di test comunque viene eseguito un altro metodo before quindi viene ri-inizializzato tutto però in alcuni casi può essere utile immaginate di avere una connessione remota oppure di aver scritto un file durante un test e non vogliamo che questo file vada a inquinare il file system nel post-test fixture possiamo andare a cancellare il file che abbiamo generato precedentemente inoltre noi possiamo in JUnit andare a raggruppare un insieme di classi di test in un unico gruppo che poi venga eseguito in un'unica soluzione questo viene fatto tramite quel meccanismo che si chiama di test suite io posso andare a dichiarare una nuova classe che è pensata per andare a rappresentare una test suite con queste due annotazioni quindi avrò un run with suite punto class che mi dice che quanto segue è una test suite e poi suite classes e l'elenco delle classi che io voglio andare a utilizzare nella mia test suite quindi nome della classe punto class nome dell'altra classe punto class eccetera in questo modo io posso invece di andare ad eseguire ogni classe di test una per una semplicemente andare a eseguire la test suite come un unico blocco quindi riepilogando le annotazioni che sono disponibili in JUnit sono chioccio la test per andare a segnare quelli che sono i metodi test before and after che permettono di andare a identificare i metodi che vengono utilizzati come pre e post fixture e poi abbiamo run with e suite punto suite classes che sono utilizzati per andare a raggruppare più classi di test all'interno di un'unica test suite per poter utilizzare JUnit 4 è necessario fare alcuni import allora tutte le classi sono sostanzialmente dentro org punto JUnit per andare a utilizzare i metodi di assert devo andare a mettere un import static org JUnit assert punto asterisco quindi tutti i metodi statici che si trovano dentro assert sostanzialmente possono poi essere utilizzati direttamente con le scritte assert equals true eccetera le annotazioni quindi test before and after devono essere importate perché sono anch'esse delle classi tramite il metodo import ovvero tramite la dichiarazione import org unit after org unit before e org unit test infine per le suite devo andare a importare org unit runner suite e org unit runner suite punto suite classes in modo da renderli disponibili quindi permettere quella che è la notazione che abbiamo visto prima che è quella standard in JUnit 4 come possiamo andare a utilizzare JUnit all'interno di Eclipse in generale tutte le volte che noi abbiamo una classe di test oppure una test suite noi possiamo tramite il menu di contesto RANES avere l'opzione JUnit Test quindi RANES JUnit Test ci permette di andare ad eseguire un test all'interno di Eclipse Eclipse ha poi un plugin che permette di andare a visualizzare il risultato di una esecuzione in questo modo qui abbiamo ad esempio il numero di test eseguiti qui 7 su 7 il numero di errori riscontrati e il numero di fallimenti e qui abbiamo l'elenco dei test che sono eseguiti questi con il simbolo verde sono quelli che hanno avuto successo mentre invece quelli con l'errore sostanzialmente sono quelli che sono falliti quindi nella parte sottostante abbiamo una descrizione di quello che è l'esito del test per cui ad esempio qui viene indicato EXPECTED 10 BUT WAS 1000 quindi nel caso di un ASSERT EQUALS la stampa del messaggio associata al fallimento della verifica praticamente va a riportare il valore atteso e invece il valore attuale che è stato restituito dal programma una volta che noi abbiamo risolto tutti i problemi quindi il nostro programma passa tutti i test automaticamente abbiamo un meccanismo per cui la barra resta verde quindi barra rosta significa che ci sono dei problemi all'interno del nostro programma che dobbiamo andare a correggere la barra verde vuol dire che invece tutto è andato a buon fine abbiamo visto che l'output di Eclipse classifica i malfunzionamenti in due contatori fallimenti ed errori qual è la differenza tra questi due numeri? allora abbiamo un fallimento quando a fronte della chiamata di un metodo ASSERT il mio framework JUnit scopre che la condizione che doveva verificare non è vera e quindi interrompe l'esecuzione e segnala un fallimento in pratica è successo che il mio programma ha prodotto un output però quell'output è diverso da quello che mi attendevo o meglio che il test si attendeva abbiamo invece un errore quando durante l'esecuzione di un programma quindi non necessariamente dentro un ASSERT ma magari specialmente dentro il codice che io voglio andare a testare viene generato un errore ad esempio una null pointer exception o una qualunque altra eccezione che segnali che c'è qualcosa che non funziona in questo caso il mio programma non ha prodotto un output che quindi ho potuto verificare come un ASSERT semplicemente si è interrotto prima quindi in linea di principio quando verifico un errore all'interno del mio codice questo è un indice di uno sbaglio che ho fatto come programmatore nell'andare a scrivere il codice mentre invece nel caso di un fallimento il mio codice comunque riesce a produrre un risultato solo che questo risultato non è quello che io mi attendevo che avevo scritto e codificato nel test per andare a utilizzare JUnit in Eclipse in generale è importante avere la libreria di JUnit all'interno del nostro progetto quindi quando devo andare a definire dei test all'interno di un progetto devo ricordarmi di aggiungere al build path del mio progetto una libreria, la libreria JUnit attenzione quando andate a scegliere la libreria JUnit in Eclipse di scegliere la versione corretta quindi ci sono 3, 4 e 5 all'interno di questo corso noi utilizziamo JUnit 4 per buona parte dei progetti che vi verranno dati come punto di partenza quindi sia gli esercizi che svolgerete come laboratori che gli eventuali esami i progetti che vi forniamo saranno già dotati di questa libreria e quindi non dovrete aggiungerla direttamente voi perché è già pronta in Eclipse posso organizzare i test secondo due modalità quella più comune prevede di andare a creare una cartella test all'interno di un progetto e all'interno di questa cartella mettere i package e le classi che implementano i test e che sfruttano il framework JUnit un'altra tecnica possibile è quella di creare un progetto completamente separato poi in Eclipse io posso dire che un progetto fa riferimento in termini di classi che può vedere a un altro progetto quello che vogliamo testare e in questo modo io mantengo completamente separato il test di un progetto dal progetto stesso in generale come posso utilizzare JUnit nella programmazione JUnit può essere utilizzato ad esempio per andare a mettere in atto una tecnica di programmazione che si chiama test driven development il test driven development prevede che si scrivano i test per il nostro codice prima ancora di scrivere il codice stesso che risolve il problema che abbiamo sotto mano per cui ho appena scritto il codice se eseguo il test appena scritto il test se lo eseguo sostanzialmente ho una barra rossa ovvero ho i test che falliscono o per errori o per fallimenti ma sicuramente non hanno successo perché? perché non ho ancora scritto una riga di codice che implementi le funzionalità da testare a questo punto dopo che il test è inizialmente fallito posso dedicarmi a scrivere il codice effettivo di produzione e con iterazioni varie andando eventualmente a correggere errori che vengono segnalati dai test arrivo a scrivere un codice corretto che quindi passa il test ottenendo quella che è la barra verde a questo punto posso andare a scrivere un altro test che mi descriva un altro pezzo dei miei requisiti ovviamente inizialmente fallirà a questo punto con una serie di iterazioni porterò di nuovo la barra da rossa a verde e a questo punto avrò implementato un altro pezzo di codice e vado avanti di questo passo continuamente a questo punto alla fine dell'implementazione quindi quando ho coperto tutti i requisiti che dovevo implementare posso andare a svolgere quello che è un refactoring ovvero andare a sistemare il mio codice in modo che sia scritto in maniera più comprensibile che non ci siano frammenti ridondanti che il codice sia efficiente e quant'altro nel fare questa operazione che è un'operazione che non cambia le funzionalità del mio software posso sfruttare i test che ho scritto precedentemente per andare a garantire che il mio codice sia corretto e continui a svolgere le funzionalità precedenti quindi, non so, elimino una variabile che credevo inutile e il mio codice non funziona più quindi vuol dire che probabilmente quella variabile non era così inutile e quindi la devo reintegrare e quindi i test servono per andare a segnalare eventuali variazioni della funzionalità del mio programma un'osservazione su questa procedura che vediamo scritta il fatto di inizialmente andare a vedere fallire i test non è un passo puramente formale che io posso saltare perché è un passo che serve a confermare che il test che ho appena scritto è un test utile che va a verificare un qualcosa che effettivamente non c'è ancora se io scrivo un test e quel test passa immediatamente significa che probabilmente quel test è inutile perché non mi porterà a scrivere nessun nuovo codice un altro uso che posso fare di JUnit e dei test di unità è quello di andare a scrivere dei test ogni volta che mi viene segnalato un difetto quindi se io ho sviluppato il software e qualcuno mi riporta un difetto di questo software io posso andare a scrivere un test che sia in grado di riprodurre il difetto quindi permettendomi di capire cosa succede a questo punto il test serve anche per andare a verificare che alla fine della mia operazione di correzione il test passi e quindi effettivamente il problema sia ragionevolmente risolto a questo punto quel test lo metto assieme a tutti gli altri e questo mi permetterà di avere una suite che garantisca la non regressione del mio codice in qualunque evoluzione futura del mio programma come linea guida per andare a scrivere i test in generale la raccomandazione è di cercare di pensare e scrivere i test prima del codice stesso attenzione non sempre chi scrive il codice è la stessa persona che scrive i test quindi è possibile che due team o le due persone vada avanti in parallelo e scrivere i test prima vuol dire che appena c'è il codice io sono in grado di andare ad eseguire i test e quindi andare a capire se il mio codice ha dei problemi in generale l'idea è di andare a testare qualunque cosa possa non funzionare correttamente e ovviamente avendo la possibilità di eseguire i test con un semplice pulsante è ovvio che l'invito è quello di andare a eseguire i test il più spesso possibile perché appena mi accorgo che qualcosa non va perché il test mi segnala un fallimento o un errore lo posso correggere se invece lascio passare del tempo e quindi accumulo tanto codice e quando scopro che non funziona perché il test fallisce ecco che ho molto più codice in cui andare a cercare per trovare il difetto in generale un'altra raccomandazione molto utile è quella che vediamo qui sotto di Martin Fowler che sostanzialmente suggerisce di andare a scrivere un test ogni volta che abbiamo la tentazione di scrivere un print da qualche parte che stampi un risultato intermedio o un valore oppure vogliamo andare a vedere un risultato o un valore all'interno del debugger ecco quelli sono contesti in cui probabilmente un test è in grado di andare a identificare una serie di caratteristiche che il nostro programma deve avere per essere corretto quando parliamo di JUnit dobbiamo notare che è utilizzato in maniera molto diffusa ma di per sé ha alcune limitazioni perché è pensato come una serie di metodi che chiamano altri metodi di test di classi e oggetti che vogliamo andare a verificare ma questo meccanismo di chiamata di metodo non è molto facilmente declinabile quando io devo andare a testare delle interfacce utente ad esempio grafiche o interfacce web per cui devo andare a pensare di estendere JUnit in qualche modo per poter andare a verificare il corretto funzionamento di questo altro tipo di interfacce che non siano semplicemente di programmazione un'altra limitazione o effetto collaterale di JUnit è che andando a chiamare metodi e a vedere risultati se io utilizzo un approccio test stream and development o comunque scrivo tanti test tendenzialmente sono portato a scrivere del codice che sia sostanzialmente funzionale ovvero abbia dei metodi che danno un risultato che è basato principalmente sui loro parametri e non hanno tanti effetti collaterali ovviamente questo tipo di metodi sono più facili da comprendere però non possono svolgere tutte le funzionalità che devono svolgere i metodi delle classi questa è sostanzialmente una panoramica molto veloce e limitata di cos'è JUnit bisognerà poi vederlo in pratica e soprattutto dovrete imparare a leggere il risultato dei test in JUnit perché quello è quello che dovrà guidare tutte le vostre attività poi di correzione dei programmi abbiamo visto quindi che JUnit è un framework che ci permette di andare a scrivere dei test automatici che sfruttano una serie di metodi che si chiamano assert qualcosa e che permettono di verificare che l'auto prodotto dal nostro programma sia come ci attendiamo i test vengono organizzati in test case che sono rappresentati da dei metodi eseguiti automaticamente dal framework JUnit questi metodi sono identificati con l'annotazione chiocciola test nel caso di JUnit 4 con variazioni nel caso di JUnit 3 o JUnit 5 e i test possono essere raggruppati in quelle che si chiamano test suite per andare ad eseguire non un test per volta ma tutto un insieme di test in un unico colpo grazie grazie grazie